Era da tantissimo tempo che aspettavo questo videogioco, il videogioco ufficiale realizzato da Sharped Link in descrizione, conoscete sicuramente Fabio che oltre a essere un carissimo amico e anche un collega che fa video qui su YouTube Non solo collega di video su YouTube ma anche collega di sviluppo perché anche lui crea videogiochi In questi ultimi mesi lui ha sviluppato insieme ad altre due persone che vedremo nei crediti questo videogioco, questo platform Per me è una piccola demo, questa è stata la prima release, ha lavorato in maniera incredibile alla costruzione di un'intelligenza artificiale molto complessa Dove mi ha indicato privatamente che questo gli ha permesso di aprirsi e migliorare ancora di più come realizzare videogiochi con Unity Questo alla fine è il bello, realizzare progetti di questo genere ti portano poi a superare delle sfide che ti portano soltanto del valore aggiunto Bagger Night ragazzi è il videogioco realizzato da, vediamo un po', da Fabio, Runci, Andrea Settimi, Luca Gambadoro e Federico Arosio Come possiamo vedere Fabio ha realizzato il codice, la parte artistica realizzata da Andrea che è molto in gamba anche lui L'ho contattato tantissimo tempo fa e mi fa molto piacere vederlo lavorare insieme a Fabio Poi abbiamo Luca per quanto riguarda il level design e anche il game design Luca lo dovreste già conoscere, lui ha un canale YouTube molto contento anche che hanno fatto team tutti insieme Luca Wright, link in descrizione E poi abbiamo musica e suoni da Federico Arosio La cosa interessante ragazzi è che se volete avere maggiore informazione riguardo a questo videogioco Facebook e Discord, ma vi consiglio soprattutto di seguire il Discord Perché lì poi potreste vedere nuovi aggiornamenti e potreste anche imparare tutte le funzionalità che nel tempo ha imparato Fabio Che quindi potrebbe rendere pubbliche tramite video e così via Questo gioco come anche suggerisco sempre è stato pubblicato all'interno di Itch, una versione web ma è possibile anche scaricarlo L'obiettivo di questo videogioco è poi pubblicarlo sia su dispositivi iOS che dispositivi Android Non vedo l'ora perché non l'ho ancora provato, non ho fatto niente, ho visto soltanto queste immagini La scheda prodotto comunque è stra curata bene quindi complimenti, cioè c'è poco da dire riguardo alla scheda prodotto Mi piace che sono stati inseriti anche i comandi qui ma spero che i comandi siano stati inseriti anche all'interno del videogioco Perché è una cosa che effettivamente consiglio sempre Abbiamo comunque WASD e poi L o X button quindi possiamo utilizzare X button e la barra spaziatrice Clicco il bottone run game, vediamo un po' Vedo già che non è possibile mettere in full screen questo videogioco Ok questa è una semplice demo Mi piace che passa il personaggio lì in basso Alzo un po' il volume, ok Non c'è un menu principale, ci sta questa cosa Secondo me è giusto non pensare oggi a un menu principale Nel senso l'obiettivo è quello di creare una demo Allora già a guardare dalla qualità del gioco Wow le grafiche mi piacciono tantissimo Unico suggerimento, come state vedendo le nuvole dietro non si muovono Consiglio che posso dare, cerchiamo di dare vita a tutto quello che è poi l'ambientazione Sono cose che sicuramente faranno più avanti Unity con i suoi shader ti permette di fare cose incredibili Una cosa che avrei fatto ad esempio anche il sole Mettere dei baglioni di luce e così via Come stiamo vedendo ad esempio le nuvole sono semplicemente un'immagine Che poi col parallasse si muovono Ecco in questo caso l'avrei distaccato E avrei fatto che potevano andare a destra e a sinistra Gioco Non riesco ad attaccare perché forse riuscirò ad attaccare dopo Con questo si salta, c'è anche il doppio salto Vediamo Andiamo avanti Mmm molto interessante Ok voglio vedere un po' anche quello che ha fatto Luca dal punto di vista del game design Il salto vedo un salto molto elevato Nel senso che come possiamo vedere a differenza di altri platform La cosa che ha voluto fare sia Fabio che comunque tutto il team Che non c'è un nome del team a dire il vero È che il salto è bello potente Nel senso c'è una gravità molto particolare Non so se è voluto sicuramente ma loro ci stanno lavorando È da considerare anche che non soltanto il salto è molto accentuato Ma c'è anche il doppio salto inserito Prendo queste monete La cosa che avrei fatto io Ma è una demo ragazzi Mettere dei suoni delle monete Che attualmente c'è solo questa musichetta Non ci sono suoni di monete Sicuramente queste cose le andranno a inserire successivamente Voglio andare a scoprire tutta la parte di mappa Allora a livello artistico e anche a livello di gameplay Il gioco è molto bello Il gioco è molto bello Mi ha detto che ha lavorato per molto tempo Ecco qui classiche cose di parte di mappe nascoste Infatti guardate qui Classica questa cosa Telecamera che dà mobile Che segue il personaggio Si va a posizionare in maniera fissa Tu puoi saltare una volta in Vabbè in mid air Now get out from here Ok ovviamente quello che spiega è che Possiamo saltare un'altra volta quando siamo a mezz'aria Perché questo fa capire che possiamo uscire da qui In questo modo Esatto Ottima questa cosa Quindi parte nascosta Che ti dà un'informazione per Migliorare quello che è poi la giocabilità del videogioco stesso Voglio provare a perdere una vita lì sulle spine Ok E se faccio così E poi resto fermo Ok perfetto Sono morto Quindi ottima questa cosa c'è Hanno lavorato su moltissimi di queste cose Ma me lo sarei immaginato Tenendo conto che una demo Devo essere molto attento a non giudicare troppo il videogioco Ma per il semplice fatto che Magari molte di queste cose già gli sviluppatori lo sanno Quindi ragazzi anche voi quando date feedback Indicate sempre che queste cose non le sapete Quindi ditegli tutto quello che vi sembra Tutti i suggerimenti Perché non date per scontato Ok questa cosa sicuramente loro la sanno Quindi non glielo dico Secondo me no Date tutti i consigli Indicate tutte queste cose qui Perché comunque loro in questo modo Tra i vostri feedback Possono trovare magari quello che non conoscono bene Allora qui vediamo Quel personaggio gli è scappato Ok vediamo un po' cosa mi indica qua il suggerimento Press L o X button per attaccare Con la X non andava però Dalla mia tastiera Quindi forse solo la L Questa cosa l'avevo vista sul video Su un video best su Twitter Che potevo anche tagliare questa parte Mi piace anche il fatto che reagisce l'albero No il gioco è figo Cioè c'è poco da dire Il gioco è molto interessante Cambierei un po' Forse tutto il concetto di gravità Di movimento un po' di feedback in generale Che c'è il videogioco Ma ecco beh La gravità delle monete che droppano da qui Incredibile E ho visto anche che Switch quindi Scendendo sotto in basso Come state vedendo Ci sono anche tanti commenti interessanti Quindi ci stanno giocando E moltissime persone E sono molto felice Di cui questo qui Soltanto 13 ore fa Quindi spero che il gioco Potrà avere un ottimo riscontro Super positivo Troviamo una cesta Sono molto curioso Forse la devo distruggere No è un mimic Incredibile questa cosa Quindi fa subito vedere all'utente Ok bellissima questa cosa Fa subito vedere al giocatore Che ci sono ceste di questo genere Ok posso attaccare anche verso l'alto Ottimo dal punto di vista di game design Quindi quando noi attacchiamo L'attacco prende anche in alto Ottima scelta questa cosa Serve a far capire Questo sarà un mimic No non è un mimic Tutte queste Oh cacchio Tutte queste cose A livello audio Sono importantissime Anche per una demo Quando ad esempio Abbiamo aperto la cesta Il tit 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 Cioè tutti questi suoni Che indicano che appunto Stanno droppando le monete Sono tutti suoni Importanti Che vanno inseriti Anche tutti i mini feedback Non dico i passettini Però di quando noi Tocchiamo Determinate cose La cosa che possiamo vedere È che sembra che in alcuni casi Il personaggio scivoli Rispetto a come si sta muovendo Dai passettini Cioè sembra che il personaggio Come state vedendo Scivoli Ecco secondo me Migliorare tutta la parte di movimento Qui consiglio di giocare mille platform Potrebbe poi far capire come migliorare tutta la parte di movimento Però è bello il videogioco Piccola chicca Penso che tutta la parte mappe sia stata realizzata utilizzando un tiled E sono tutte tile map Cosa che secondo noi potrebbero starci Una cosa che poi, questo è un mio feedback personale Tutti questi elementi qui, che sono queste corde e così via Farle separatamente e animarle leggermente Potrebbe creare un po' di movimento a tutta la parte di videogioco Il fatto che la telecamera sia fissa E anche il fatto che sia uscito un personaggio dalla parte centrale Quindi da qui Esatto, mi fa capire che possiamo andare avanti Ok, ce l'ho fatta Io uso la X per attaccare ma non mi attacca Penso che sia un errorino momentaneo Prendo la barra della vita Ah, non l'ho presa Quindi Non lo so perché non l'ho presa Ok, sono tornato indietro Possiamo andare da questa parte Sono molto curioso di vedere anche tutti i nemici che ci saranno Quella cosa che sicuramente abbiamo preso servirà più avanti Ne sono sicuro Qui dobbiamo distruggere Andiamo avanti Ragazzi avete un platform pronto secondo me da pubblicare Quello che adesso potete sicuramente fare è migliorare solo questo videogioco Cioè avete del tempo adesso per costruire un gioco infinito Nel senso che Ok, si può superare questa parte Sì ce l'ho fatta Provo a superare anche questa Le monete indicano anche il percorso da prendere Questa è una cosa classica che vediamo spesso nei platform in generale Ok, non ce l'ho fatta Mi piace anche il gioco che sia molto semplice perché è previsto che sia mobile Quindi ci sta il fatto che comunque non possiamo indirizzare il colpo Che non utilizziamo mai il mouse Perché ricordiamoci che questo è un videogioco che verrà pubblicato per iOS e Android Non mi ha fatto prendere la vita prima Quindi adesso voglio vedere se riesco a prendere la vita quella lì Ok, adesso l'ho presa Ah, perché avevo il numero massimo di vite Ok, secondo me anche queste cose a livello di feedback sono importanti a aggiungerne Cioè se io ho tre vite, tre cuori E vedo una pozione Quello che potresti fare è indicarmi a schermo che ho già il massimo degli HP Oppure farmela prendere comunque Dark Souls, un esempio Bevo una Estus e sono già al massimo della vita Problema tuo, nel senso che devi essere tu bravo a non toccarla Oppure dare la possibilità all'utente di prenderla Una cosa che sconsiglio è di prenderla perché il gioco è mobile Quindi devo utilizzare il meno tasti impossibili Sicuramente quello che posso consigliare io Agli sviluppatori che adesso lavoreranno molto a tutta la parte di polishing E a migliorare tutta la struttura del videogioco Fare tutte quelle cose che rendono il videogioco più figo Tutte le parti di animazioni Quando prendo una vita il cuoricino che si anima Quando la perdo che si diminuisce Quando perdo una vita uno screen shake della telecamera Tutte queste cose qui che vanno a migliorare molto il feedback L'idea del salto così tanto accentuato Fa pensare che più avanti ci saranno delle mappe Dove il salto sarà importante utilizzarlo Per tutta la parte di game design Però giocandoci ad esempio basta fare due doppi salti Non vedo più la mappa Cioè questa cosa Ah non posso attaccare con la X vero Devo attaccare con la L Mi dimentico di questa cosa Ah nooo ho perso E ricomincio da capo Non giocherò tutto il videogioco Perché volevo dare dei feedback primari agli sviluppatori Quindi il fatto che non ci sia del checkpoint Ragazzi anche se si tratta di una demo Inseritelo perché è comunque una tecnica al demo E quello che consiglio E magari nel prossimo aggiornamento fatelo Mettete dei checkpoint Perché l'obiettivo è quello di ottenere dei feedback Se ad esempio uno va a perdere alla fine E più avanti dopo quella parte dove sono morto io Ci sono delle cose importanti Dove per voi è importante ottenere dei feedback Io ad esempio adesso chiudo Ma non perché Perché secondo me non è un gioco da giocare Adesso è una demo Quindi l'obiettivo è quello di ottenere più feedback possibili E serve anche per far attrarre pubblico Per far ad esempio aumentare il numero dei gioinati all'interno di Discord Dato che questo è l'obiettivo Perché una demo viene pubblicata anche per quello Lavorate molto tutta la parte di polishing Cioè nel senso Prima di pubblicare una demo Cerco di attrarre esteticamente Anche il libro di gameplay Il videogioco ai nuovi utenti Cioè come ad esempio hanno fatto i ragazzi Che hanno realizzato quel gioco di aereo Waterlight Studio Uno degli ultimi video dei vostri giochi Quello che hanno fatto loro è Hanno realizzato una prima demo E' ovvio che ci sono stati sei mesi Ma stra completa di qualità Questo gli ha permesso di ottenere molti feedback E di vedere già la qualità del videogioco E quindi se le persone sono interessate Sanno già che il gioco verrà pubblicato Sanno già che è un che qualità Questo non vuol dire che non va bene questa demo Assolutamente no Secondo me è stra figa Avete fatto veramente un ottimo lavoro E mi piace che un team così nato improvvisamente Abbia già creato un prodotto così completo Ma è importante per tutti Anche ad esempio Fabio mi ha detto Che ha lavorato all'intelligenza artificiale dei nemici Non l'ho potuta vedere questa cosa Perché? Perché sono morto quasi alla fine E quindi secondo me inserire dei checkpoint è importantissimo Com'è importantissimo anche inserire il bottone del full screen Che ho visto da alcuni suggeriscono di inserirlo Sono molto curioso a dire il vero di provarlo anche per mobile Perché se questo videogioco va pubblicato su mobile Realizzare una versione web potrebbe essere ottimo Perché vi dico questo? Perché la maggior parte forse degli utenti che giocheranno a questo videogioco Questo è un mio dato inventato Potrebbe giocare questo videogioco da desktop E quindi dare pareri principalmente da desktop Secondo me invece specificare di giocare questo videogioco da mobile Magari con le cuffie perché l'audio è importantissimo Anche questa demo Vi permetterà poi di avere dei feedback proprio sull'utente finale Ovvero quello che giocherà utilizzando un dispositivo Che sia iOS o Android e così via Oggi ci sono piccoli feedback miei Consiglio quindi di lavorare molto al polishing generale dello sfondo Dare vita a quello che è la mappa attualmente Quindi non creere i numeri mappe Ma dare vita a tutta quella che è la mappa Magari mettere tutti quei personaggini Quei vermicelli che si muovono A lavorare molto all'estetica della cosa Perché potrebbe migliorare il prodotto finale Anche se il gioco andrebbe pubblicato per mobile Non so se questo potrebbe creare un problema dal punto di vista delle performance Il gioco secondo me è molto bello Come state vedendo mi viene voglia di andare avanti Sono molto curioso E' ovvio che imbarca tutto il discorso di drama Manca un menu principale che racconta come funziona il videogioco Mancano tantissime cose Sicuramente power up Funzionalità che prenderemo Però il gioco secondo me è un platform che su mobile potrebbe essere interessante da giocare Perché ricordiamoci il target è proprio mobile Consiglio di lavorare molto ai feedback Come stia venendo è tutto molto statico A parte le monete Tutto molto statico La scena non risulta viva E quello che consiglio quindi è di giocare a molti videogiochi di questo genere A molti platform Per capire quale potrebbero essere quelle piccole cose Che possono rendere migliore il videogioco stesso Anche il concetto del doppio salto Secondo me è stra interessante Una cosa ad esempio che ho fatto adesso Per logica no? Per mia input E' quello di scendere Io sto cliccando S E non posso scendere Questa cosa ok non viene specificata Però alcuni utenti magari abituati a giocare a tantissime platform Magari è una funzione che preferiscono avere Quindi va anche pensata Adesso ecco qui che infatti mi ha fatto prendere la pozione Ragazzi questo era il videogioco Bagger Knight Di Fabio del team di Sharped Sono molto felice del videogioco che hanno fatto a dire il vero Perché mi ha stupito Io sono molto contento che lui in questi ultimi mesi Si sia messo così tanto di impegno a creare un prodotto figo E qui si vede l'impegno di un prodotto Può sembrare un semplice platform Ma non è affatto così Io ho visto anche alcune cose Mi hanno imprimato anche quello che è lo scopo di questo videogioco E secondo me ragazzi Potrebbe avere non dico un ottimo potenziale Attualmente è un gioco in stra demo 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 alfa Quindi è ancora poco per dire se questo videogioco può essere figo oppure no Perché ricordiamoci ci sono giochi che vendono tantissimo Ma che alla fine fanno bene del marketing E quindi riescono comunque a trarre il pubblico Quindi bisogna valutare anche quello L'idea del personaggio con questo caschetto potrebbe essere molto interessante Per creare una bella lore dietro Magari un domani si toglie questo caschettino E si scopre qualcosa di interessante E mi piace anche la roba di game design Utilizzare questo caschettino Perché ti vai a togliere tante cose dal punto di vista artistico Quindi movimento di capelli Molte cose ci può stare a dire il vero Però stra interessante Sicuramente creare anche una storia È importante per un platform Ricordiamoci che il platform è un gioco comunque lineare L'abbiamo visto con Super Mario Con tantissimi videogiochi platform Quindi c'è un inizio e una fine È molto interessante capire Perché sto andando Dove sto andando Perché ci sono questi nemici Perché non ci sono questi nemici Cose che potrebbero anche far attirare le persone che amano giocare Questa tipologia di videogiochi Mi sono dilungato tantissimo Questo video dura tantissimo Ma Fabio se lo meritava Gli vogliono tantissimo bene Secondo me deve continuare a sviluppare questo videogioco E quindi ci rivedremo sicuramente a provare altre versioni di questo videogioco Fatemi sapere se vi piacerebbe vedere un video insieme a Fabio Noi possiamo intervistarlo Per farci spiegare come ha fatto determinate cose Perché anche io ho delle domande Da fargli Ragazzi ci vediamo come ogni giorno Con un nuovo video Allora noi ci vediamo domani Ciao